Aristotele Sbermuda è un assolo comico che è nato proprio durante i primi lockdown, quindi anche in un momento in cui ho pensato all'esigenza di cosa fare quando si sarebbero riaperti questi teatri, mi è sembrato il momento ideale per avere qualcosa di estremamente agile, quindi diciamo che è nato veramente anche molto ispirato dalle condizioni del teatro in quel momento, era tanto tempo che desideravo mettere insieme dei pezzi comici che in realtà erano separati, che avevo fatto in diverse occasioni a Roma, però poi nel momento in cui sono messa a scrivere, pensavo che sarebbe stato facile unire i puntini, invece poi è diventata come sempre una cosa nuova, per me è un'esperienza molto nuova quella di fare un lavoro che appunto io non amo tantissimo le definizioni troppo precise, perché mi piace proprio lavorare sui libri, però sicuramente questo spettacolo ricorda la stand-up comedy, e anche un teatro diciamo comico classico italiano, anche un po' la satira, perché in cui il spettacolo in cui vengono presi di mira comunque degli argomenti che sono proprio di adesso, cioè calarsi veramente nel momento, quindi ho fatto questa scelta e ora purtroppo mi tocca farlo, ecco questo purtroppo sono quelle belle ideone che vengono a noi e dopo niente, va così. Ho capito che il covid si comporta esattamente come tutti i miei fidanzati, quindi io no, so come si comporta, posso dare un contributo alla ricerca, ma la gara è esatto, quando pensi di averla scampata quello ritorna, è uguale. Ciao!